San Andrea, ragazzi, c'è, volevo fare il gioco, comunque no, ma lo so qui stelle, è anche quella di questa sorella nel gioco, poi c'è quella bionda, perché non ho capito chi è, chiede una gente al gioco, oh, questa c'è ma in una prossima seconda che non l'ho fatta io, vedete cosa ho fatto, quando abbiamo il cittarello, ovvero il cerchio, ecco questo qui, abbiamo il cittarello e fa, questo episodio, allora, lo faccio ma è più chiaro un po', allora, sicuramente, vi perdono, se già sono tipo 5 minuti di registrazione, perdonatemi ma se sono un coglione, io non ci posso fare niente, scusatemi, comunque da leggere un pochettino anche perché ho la pennetta in verità, il mouse, il joypad, le cose, tu quando hai seguito ciò, la pennetta mi serve perché però non ti richiedo di l'anno, ok, scusate, 5 minuti di ritardo, se non funziona ora, non piglio il botto, ok, andiamo, la grana, la visuale, così si giro, ok, così, ok, perfetto, ok, vediamo, allora, così si ferrava, aspetta, allora, per aprire il menu, devo premere il pizzo, comunque come ha dei bisdioci o tio, quindi, voglio la moto, cazzo il palo, c'è, mi piace, c'è un palo, io quello che ho presento, non andavo con niente, eh, sì, l'ho capito, è tutto bene, ok, mi dico, il computer sembra che si, che sono persi a cazzo, non lo amo, ragazzo, con user è complicatissimo il giocaccio, aspetta, ma io posso parlare di una cosa, sì, ui, devo s'impegnare, madonna, sì, aspetta, 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 madonna, sì, e se uno è questo, quindi così sotto, giusto, sì, scusate, ma presto vedrò di, di attivare il tasto shift, perché mi sembra come stai, in mezzo, no, non posso comunicare, anche il tasto, ma presto,avo, che mi sembra, io, mi sembra, ti posso, ti posso, ti posso, ti posso, ti posso, questo qui è l'organizzazione che faccio quindi ci sono tipo 5, 6, 3, 4 video 5, no, cazzo dopo il terzo dopo lì che lo piglio e lo sbarco al muro 4, va bene ok e poi non mi chiedevo andare e sto cagando, ok va bene ah, non so chi faccio così cioè, prendiamo anche le troncette ma no, le città di sto caglio 3, 2, 1 ah, non ti vedete così oh, shit ragazzi, mi fermate il dì, mi fanno le mani ma cazzo non potete, non ne avete cazzo idea comunque madonna, che schifata della madonna, della madonna della madonna, della madonna, della madonna eh, ma vaffanculo però, eh, vaffanculo mi sta stuprando mi sta stuprando che cazzo muovi di minghia eh, ho capito sono già posizionato cazzo no ma che bella, aiuto vabbè, no, mi chiamano non devo fare questa messina è il destino si, vabbè, si capito no, no, no devi cazzo falire sono già 9,40 e poi non me lo fa mettere su youtube merda uomiti beh, qui ci sono i lacrimogeni a sinistra lo schiuma io madonna madonna aiuto mi vuole stuprare come ti ti ha da trucchi è un'altra cosa eh è impossibile cazzo per non nuove non ma se non non ti ha buona sei qui Fabi? Duffo? Guadà! 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 Oh minchia acrobazie! Ci sono i coglioni! E poi io così gasti, no? Vorrei vedere come faccio e puoi sparare. Come faccio? Non posso sparare, infatti poi io arriverò a un detto punto e sto al piano di sicuro. Dove che sono andate? Ma dov'è? Ah ok. Poi lo vendo io, basta. Mi va a muoviti però. Tu non romperi i coglioni pure. No, io, ma per favore se ti mi ricommendi come devo fare queste cose, se lo chiedono di queste qui, lo posso cercare in compito. ! Ah, ma con tutto veloce! che pesci come i cagli madonna 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 aiutami vai cazzo aiuto aiuto mezza ma che bella macchina una mezza proprio madonna tipo lo schifo le cose fottissimo ma non ci so oggi c'è anche rider però è che poi è cattivo alla fine ma perché poi rider è un po' stato di messa madonna 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 C'è la bomba di mano al garage perché potrebbe sentirci, prendere un po' di posto. Madonna! C'è la bomba di mano al garage perché potrebbe sentirci, prendere un po' di posto. C'è la bomba di mano al garage. C'è la bomba di mano al garage.